Musica Resterà qualche labile traccia nelle cronachette locali del furto di Cascio Cavalli portati via perché trafugati sarebbe troppo da una delle casette natalizie la notte di San Silvestro davvero niente in un paese nel quale ogni due minuti viene svaliggiata una casa statistiche per fortuna in lieve miglioramento negli ultimi anni che servono soltanto a dimensionare il fatto di Avellino che a suo modo peraltro non d'accordo all'allarme sociale che invece e spesso a sproposito avvertiamo rispetto all'incremento di altri reati predatori la ragione sta nel Cascio Cavallo, costituisce reato se lo rubi ma anche se li rubassero tutti non ci sentiremmo in pericolo eppure tecnicamente rubare Cascio Cavalli o la Gioconda presuppone la stessa trafila pianificare, trovarsi un alibi, garantirsi una qualche complicità decidere se mangiarseli a rischio di indigestione o contattare prima il ricettatore e non è facile trovare ricettatori di Cascio Cavalli che a differenza della Gioconda, che da loro venne portata via sotto un braccio sono non meno belli e rotondi ma più pesanti, ti devi anche procurare il furgone tutto questo ambaradam per portare via merce complessivamente sotto i 2000 euro vero è che la bellezza, secondo Shakespeare, tenta i ladri più del loro ma senza nulla togliere ai Cascio Cavalli l'assimilazione sarebbe un tantino temeraria almeno quanto l'improbabile terno secco da giocare sulla ruta di Avellino 88 i Cascio Cavalli, 79 il ladro che si è fatto prendere 65 il benefattore, che è Vincenzo, il commerciante di Atripalda che è tornato in possesso dei suoi amati Cascio Cavalli li ha donati alla mensa dei poveri Sì, non tutti i Cascio Cavalli sono tornati a casa perché per completezza di cronaca, lo dico all'appello mancano il mandarone che è un maxi provolone da 25 kg due forme di pecorino da 15 kg ognuno e non si hanno notizie di alcuni culatelli e di diversi prosciutti è una cronaca che ameremmo più spesso fare il benefattore Vincenzo, il commerciante di Atripalda ha però in ogni caso promesso oltre ad aver donato questa merce recuperata alla mensa dei poveri di Avellino ha promesso di offrire il pranzo di San Modestino ai poveri della fraternita intitolata a Monsignor Antonio Forte appunto nel giorno di San Modestino ben trovati a studio sera e buonasera a Maria Grazia Villano presidente dei giovani di Confindustria e buonasera a Emanuela Sica, avvocato, scrittrice è stata già nostra ospite qualche mese fa con loro parleremo di due cose diverse e anche di altro cercando di intrecciare intersecare i ragionamenti dentro i fatti di questa giornata intanto parleremo di occupazione giovanile le possibilità che vengono da questa misura del governo resto al sud incentivi destinati ai giovani appunto del Mezzogiorno dai 18 ai 35 anni di 8 regioni Abruzzo tutto il Mezzogiorno isole comprese cioè Sicilia e Sardegna è una dotazione consistente perché stiamo parlando di quasi 1 miliardo e 300 milioni di lire destinati ad attività di produzione di beni e servizi vedremo un attimo nel dettaglio di che si tratta perché tra pochi giorni il 15 da partire dal 15 gennaio sul sito di Invitalia chi rientra dentro la possibilità di accedere a questi finanziamenti può farlo appunto scrivendo e presentando il suo progetto al sito di Invitalia che entro 60 giorni darà risposta positiva o negativa che sia con Emanuela Sica invece parleremo insomma di quello che sta succedendo le donne attrici soprattutto che sfilano in nero sul red carpet del Golden Globe e in Francia invece succede che altre donne anche molto autorevoli, molto presenti nel discorso pubblico francese non solo e beh dicono attenzione perché qui si sta scatenando la caccia alle streghe dopo i casi anche clamorosi di molestie, di stupri da parte di uomini potenti il primo dei quali è Weinstein in America questo potente produttore hollywoodiano e cercheremo di capire un po' come interpretare diciamo così queste vicende che significa anche interpretare anche il nostro tempo le notizie dei caciocavalli io vorrei dirle più spesso come cronaca aprirci con i caciocavalli che vengono tranquillizzerebbe un po' tutti ecco perché abbiamo scelto questa sera la copertina allora Maria Grazia partiamo da Resto al Sud Resto al Sud noi siamo stati proprio ed era il 27 di novembre a Napoli a Castel dell'Ovo quando il ministro, dovremmo vedere le immagini Claudio De Vincenti insieme ad Arcuri di Invitalia hanno illustrato le misure previste da questi incentivi e sostanzialmente insomma c'è stata una grande attenzione e si aspetta molto da questa possibilità perché nel mezzogiorno e mi taccio subito beh siamo di fronte nonostante una crescita che si è quantificata in questi anni una crescita del più 1,3% di poco inferiore a quella del centro nord dal 2017 al 2018 in questo triennio beh il tasso di occupazione giovanile è il più basso d'Europa in Italia quindi abbiamo un serio problema di mettere mano soprattutto a questa vera e propria emergenza Confindustria Giovani domani terrà un forum per spiegare nel dettaglio questa iniziativa, questi incentivi come, quando, perché, chi può farlo, chi non può farlo da questo punto di vista nel mezzogiorno è difficile fare imprese intanto ricordo che Maria Grazia Villano insieme ai fratelli ma insieme al papà Quilino Villano gestisce l'azienda OMI nell'area industriale del Calaggio poi parliamo anche un po' della OMI per dire un po' come stanno messe le cose nel mezzogiorno ma intanto Resto al Sud è un'iniziativa incoraggiante abbiamo detto 1 miliardo e 300 milioni di euro non sono pochi, insomma, sia pure spalmati nell'arco del tempo Buonasera a tutti, sì, hai proprio ragione anche perché i dati statistici alla mano dicono, soprattutto nella provincia di Avellino che c'è una grossa fuga di giovani che vanno all'estero per trovare occupazione e in questo scenario, in questo contesto quindi misure come Resto al Sud insomma sono delle opportunità per quei giovani che hanno voglia comunque di rimanere qui nelle loro terre per diciamo crearsi un proprio futuro e non dover per forza andare all'estero o altrove per cercare lavoro L'obiettivo ci diceva Arcuri il manager di Invitalia l'obiettivo è quello di puntare a 100.000 nuovi posti di lavoro che nel caso sarebbero posti di lavoro cosiddetti buoni una buona occupazione perché si tratterebbe o si presume si tratti di progetti innovativi resta il fatto che fare impresa al Sud se per i giovani del Sud fosse più facile fare auto-impresa e i dati ci dicono che i giovani del Mezzogiorno sono persino più bravi in questo dei giovani pari età del resto d'Europa per il resto fare impresa nel Mezzogiorno e anche in provincia di Avellino per i giovani e per chi non è giovane non è una cosa molto semplice insomma voi della Omi ne sapete qualcosa assolutamente non avete il gas tenete all'acedonia una frana che incombe da anni e nessuno mette riparo potreste aprire altre aziende che avete già costruito ma insomma e quindi poi a un certo punto uno se ne va Maria Grazia non se ne va perché ha le aziende del padre no assolutamente è molto difficile fare impresa nel Mezzogiorno però noi imprenditori ma non soltanto noi della Omi ci sono tanti imprenditori giovani e meno giovani che però credono in questa terra e profondano tutto il loro impegno affinché possano con i loro investimenti con le loro aziende creare occupazione e distribuire ricchezza sul nostro territorio certo nel nostro caso nel caso della Omi noi abbiamo fatto 25 milioni di investimento in area industriale del Calaggio e però in queste aree industriali comunque mancano le infrastrutture quale il gas quale la banda larga eccetera e quindi è ovvio che pur avendo fatto grossi investimenti perché abbiamo realizzato due capannoni che potrebbero andare già da domani in produzione a pieno regime però con la carenza di queste infrastrutture freniamo anche l'occupazione ai vostri corrispondenti ai vostri clienti d'oltreoceano a loro interessa il prodotto il servizio non le dite perché altrimenti questi dicono ma come faranno a produrre questa cosa potrebbero potrebbero sospettare qualcosa in ogni caso diciamo l'Irpinio è un uomo di per sé determinato che nonostante tutte le difficoltà oggettive crede nei suoi obiettivi e comunque diciamo cerca di portare avanti quelli che sono quello che è lo sviluppo imprenditoriale del proprio territorio Nella OMI Maria Grazia di che si occupa? Noi la OMI è un'azienda aeronautica e noi produciamo particolari io sono in particolare in OMI mi occupo di tutti i processi di qualifica quindi l'organizzazione aziendale le qualifiche del personale dei processi perché nel mondo aeronautico se non hai un processo produttivo qualificato dal cliente e anche da enti di parte terza non puoi lavorare e quindi è indispensabile organizzare e strutturare bene l'azienda con tutti i processi e sviluppare le competenze del personale affinché possano offrire il prodotto di alta qualità nei tempi giusti e nei costi attesi dal cliente dai committenti è una componentistica altamente precisa e sofisticata per l'industria aeronautica civile e militare anche componenti degli F-35 famosi o famigerati che siano voglio dire anche per lavoriamo quindi anche per Lockheed Martin per Boeing per Airbus tutti i maggiori prime contractor di questo settore voi quando telefonate a Seattle alla Boeing non dite che non avete la banda larga abbiamo la banda larghissima altrimenti quelli dicono non è possibile dobbiamo andare a vedere dove c'è il Busillis dove sta Emanuela Sica i giovani che cercano lavoro grande intraprendenza abbiamo ricordato secondo i numeri insomma che sono pure fredde statistiche ma insomma qualcosa vogliono dire insomma giovani che hanno una capacità nel mezzogiorno di diventare essi stessi imprese insomma questo sarebbe un buon segnale se però tutto funzionasse un po' meglio fuori da questo contesto beh in effetti sì come ha detto la dottoressa io concordo su tutta la linea perché fare impresa è importante è anche impegnativo però mettere un'impresa in un deserto ovviamente comporta dei problemi aggiuntivi e maggiori rispetto a fare impresa in una zona in cui le infrastrutture ci sono ci sono le strade di comuni mezzi di comunicazione e diciamo tutta la componentistica aggiuntiva all'impresa ovviamente nel sud noi siamo abituati ad avere poco essendo abituati ad avere poco ce lo facciamo bastare eh sì sicuramente quindi diciamo abbiamo quella marcia in più rispetto a chi avendo tutto non si sa adeguare anche alla difficoltà voglio farvi ascoltare un attimo proprio il ministro De Vincenti perché quel 27 novembre quando siamo stati a Napoli a Castel dell'Ovo dove è stata presentata questa misura resto al sud abbiamo fatto un'intervista anche abbastanza articolata con il ministro e tra le altre cose io ho chiesto a De Vincenti ma perché insomma vero che ci sono abbastanza soldi altre iniziative soppartite ma insomma perché stavolta dovrebbe andare bene rispetto al passato e tenendo conto dei numeri sulla disoccupazione giovanile nel mezzogiorno che abbiamo appena ricordato ecco De Vincenti ha perso molto ottimismo molto ottimista sentiamolo un attimo partiamo dal fatto che in questi ultimi anni abbiamo visto tanti giovani che nel mezzogiorno hanno messo su attività imprenditoriali magari in cooperativa in vari settori dall'agricoltura al turismo alla stessa industria all'artigianato e ci sono riusciti certo non tutti ma una parte sì e questo significa di nuovo ci sono delle c'è una voglia di fare e allora gli diamo una mano in modo che magari anche chi ha più difficoltà ci possa riuscire ecco era Claudio De Vincenti insomma ottimista il ministro voi avrete un braccio destro operativo di De Vincenti a questo forum che farete come giovani imprenditori di Confindustria il professor Coco che è un collaboratore storico del ministro che è stato invitato da noi gruppo giovani imprenditori a un aperitivo presso un'azienda nostra associata e domani pomeriggio avremo questo incontro e lui rappresenterà non soltanto a una platea formata dal gruppo giovani imprenditori di Avellio ma anche abbiamo coinvolto anche il forum dei giovani per informarli di questa misura a resto al sud che rappresenta una valida opportunità per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni per chi vuole crearsi lavoro questo finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in un contributo a fondo perduto pari al 35% dell'investimento complessivo è un finanziamento bancario pari al 65% sempre dell'investimento complessivo coperti da un contributo in conto in conto interessi facciamo un esempio così facciamo capire a chi ci ascolta cioè per ogni progetto vengono assegnati 50.000 euro si ricevono 15.000 euro a fondo perduto 35.000 verranno restituiti poi in 8 anni a partire dal terzo anno però se più giovani si mettono insieme fino a 4 beh il finanziamento diventa di 200.000 euro la cosa buona rispetto anche al passato e in vitalia ha tenuto molto a sottolineare questo aspetto non sono finanziabili le spese di progettazione e consulenza quando ci sono sta roba le iniziative come funghi i consulenti faccio tutto io non ti preoccupare me la vedo tutto io questa cosa è positiva perché intanto perché questa azione quest'opera di coordinamento di consulenza di accompagnamento dovrebbe svolgere direttamente in vitalia così mi venne detto il 27 di novembre credo che sia che sia così ma anche perché come dire evita speculazioni che sono magari professionali ma anche di carattere politico voglio dire non me la prendo con nessuno per carità quando dico speculazioni di carattere politico voglio dire che poi soprattutto di questo periodo qui e insomma quando e allora ce la vediamo noi facciamo noi e invece questa cosa per fortuna dovrebbe e potrebbe essere evitata Maria Grati spero veramente che si sono d'accordo con te che ci sono tanti avvoltoi e speculatori quando diciamo per quanto riguarda per quanto riguarda il discorso consulenti eccetera però spero vera vivamente che comunque questi ragazzi non possono non vengano lasciati soli a sviluppare le proprie idee perché comunque la misura prevede come hai detto tu finanziamenti materiali attrezzature eccetera però capiamo bene che per realizzare un'impresa le competenze tecniche e comunque materiali e attrezzature non sono sono necessarie ma non sufficienti perché comunque un giovane ha bisogno di essere accompagnate in tutte le fasi in tutti i processi di realizzazione di comunque un'impresa vera e propria proprio per la sostenibilità dell'impresa e dell'idea imprenditoriale che un giovane ha voglia di sviluppare quindi spero veramente che l'Italia possa dare questo supporto come dicevi tu come ha detto anche il ministro perché è necessario ecco l'altro binario della puntata di stasera è o sarebbe questo nuovo puritanesimo che viene denunciato in una lettera appello pubblicata martedì scorso dall'autorevole quotidiano francese Le Mans da donne che hanno un peso nel discorso pubblico francese e non sono una scrittrice una psicanalista un'attrice due giornaliste una lettera appello sottoscritta da altre centinaia di donne e tra queste anche una icona come Catherine Deneuve denunciano il nuovo puritanesimo Emanuela Sica che sarebbe scattato sull'onda delle molestie sessuali che a partire dal caso di Humphrey Weinstein ha coinvolto potenti boss non solo di Hollywood ma anche attori molto famosi uomini politici uomini che grazie al loro potere hanno costretto donne molto attraenti e non meno famose a subire le loro attenzioni sessuali in genere si è trattato di veri e propri stupri e allora separare la violenza dagli approcci sessuali per quanto spinti e inopportuni è possibile questa cosa qual è la linea di confine la demarcazione la stessa Catherine Deneuve dice va bene ce ne faremo una ragione se siamo oggetto di attenzioni sbagliate sgarbate eccetera non per questo dobbiamo sentirci traumatizzate beh in effetti la lettera firmata da queste cento donne tra cui la Deneuve è una lettera sicuramente provocatoria rispetto ad un fenomeno che come eccolo qui Weinstein Weinstein ha i tempi ha i tempi belli ha i tempi d'oro e un fenomeno ieri l'hanno schiaffeggiato in un ristorante si è stato aggredito l'hanno schiaffeggiato in ubriaco però insomma non rischiamo di non capire e questo secondo me la lettera nasce da questo nasce dal fatto che dal processo giusto nei confronti di una persona che ovviamente è stato un orco diciamolo e con la nostra grande solidarietà di donne nei confronti di chi ha subito stupri violenze e minacce per con diciamo i vari mezzi che poi sono stati utilizzati si è creato collateralmente una sorta di femminismo aggressivo nei confronti dell'uomo in generale quindi l'orco ogni uomo è un orco per quanto riguarda invece la lettera io dico che la Deneuve da un lato ha detto una cosa giusta sacrosanta che nell'ambito dello scorrere della normale dialettica tra uomo e donna quindi nell'ambito dell'approccio anche sessuale e anche diciamo affettivo amoroso è importante il corteggiamento e quindi bisogna differenziare quello che è il corteggiamento da quella che è la molestia da quello che è lo stupro tuttavia non è facile capire finché si parla di corteggiamento e quando si arriva alla molestia ovviamente per capire la molestia ci dobbiamo mettere da quest'altro lato la percezione la percezione soggettiva è molto soggettiva la percezione soggettiva perché non è che si può codificare non lamentarti perché questa non è una molestia non c'è un decalogo delle molestie non c'è ovviamente è nella sensibilità dell'essere umano capire quando bisogna fermarsi e soprattutto è nella sensibilità della donna capire quello che dà fastidio quello che è visto come una sorta di paura di sottomissione e crea ansia e quando invece c'è la normale diciamo si arriva sicuramente a dei casi insomma paradossali come quello che ha visto coinvolto il ministro della difesa britannico Michael Fillon che si è dovuto dimettere per aver messo la mano sul ginocchio di una giornalista che l'intervistava e quella poi ha messo che questo non avesse precedenti diciamo così ma insomma francamente diventa un po' stra però mi ha colpito una cosa lo dico anche a Maria Grazia perché in questa lettera appello hanno scritto anche queste donne molto ripeto molto autorevoli nel discorso pubblico francese ed europeo in generale dice una donna però non può sentirsi necessariamente traumatizzata per sempre se qualcuno si è strusciato contro di lei nella metro anche qui torniamo alla soggettività uno può essere traumatizzato donna uomo che sia anche rispetto a quello che sembra diciamo così un accadimento banale se non trascurabile assolutamente io ho seguito questa questa notizia a me fa specie sentire poi alcune denunce fatte da donne dopo anni dell'accaduto voglio dire se tu hai noi donne siamo penso abbastanza per spiegarci capiamo subito quando ci troviamo in alcune situazioni scomode che non ci piacciono e possiamo tranquillamente evitarlo ciò non voglio dire che comunque alcuni atteggiamenti non vanno denunciati non vanno condannati però a volte si rischia veramente il paradosso insomma ecco posso chiedere dobbiamo andare in pausa posso chiedere ad Emanuele e a Maria Grazia che cosa per voi cioè la percezione diciamo così che l'approccio stia per diventare molesto e dunque molestia quando dal vostro punto ditemi che mi è capitato nel momento in cui non è gradito al soggetto che lo riceve nel momento in cui questa attenzione questa attività dell'uomo che ben può essere un corteggiamento arriva a crearti a uno stato di ansia di imbarazzo di diciamo di anche fastidio la si deve fermare l'uomo si dovrebbe fermare quindi al no l'uomo si dovrebbe fermare ovviamente capita che al no se qualcuno si struscia nella metro voi che fate cambiate andate via è capitato gli mollate un ceffone o chiamate aiuto che succede Maria Grazia no io penso che dipende da caso a caso io credo che posso abbastanza rendermi conto facilmente se una persona si è strusciato volontariamente oppure l'ho fatto in maniera involontaria quindi a seconda dei casi uno prende le sue diciamo le dovute accortezze Emanuela ceffoni o che? ma ripeto dipende dal caso è capitato anche che dessi un ceffone ad una persona che era molesta molto molesta ci dobbiamo fermare torniamo tra pochissimo con Maria Grazia Villano ed Emanuela Sica tra poco seconda parte di Studio Sera stiamo facendo il punto in modo particolare su due su due argomenti di grande attualità e comunque di grande interesse che sono le incentivi che scatterà che partiranno ai quali si potrà concorrere a partire dal prossimo 15 gennaio presentando il progetto a Invitalia incentivi resto al sud destinato ai giovani del mezzogiorno tra i 18 e i 35 anni è un plafond finanziario molto consistente che è stato appostato dal governo un miliardo e 300 milioni di euro quasi quindi abbiamo cercato di fare il punto di questo con Maria Grazia Villano presidente dei giovani di Confindustria Avellino e con Emanuela Sica oltre che di questo abbiamo in modo particolare parlato di questo dibattito che divide anche molto la lettera appello delle donne francesi che temono diciamo così dell'introduzione di un nuovo puritanesimo e dunque il tentativo implicito di riportare per esempio anche la libertà sessuale in modo particolare la condizione della donna ad una condizione di arretratezza dopo che si è scatenato questo che loro chiamano nuovo puritanesimo in seguito ai noti fatti cominciati con Weistin a Hollywood e che nel caso di molesti e stupri ha coinvolto tanti uomini di potere che in base al potere che detengono insomma hanno abusato 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 di donne che lavoravano con loro e che avevano evidentemente bisogno di lavorare con loro e che comunque erano una condizione di qualche sud di Tanza io riprenderei un attimo il discorso di resto al sud perché dobbiamo ricordare lo abbiamo già fatto che a partire dal 15 gennaio bisognerà mandare questi progetti innovativi si spera al sito di Invitalia che entro 60 giorni darà le sue risposte ora Maria Grazia Villano da questo punto di vista quali sono oggi Maria Grazia lavora alla Omi di di Lacedonia e del papà Aquilino Villano ma insomma dovendo mettere in piedi un'azienda più o meno individuale al massimo formata da quattro persone su che cosa punteresti? Sicuramente oggi si parla molto di industria 4.0 per cui sostanzialmente l'idea imprenditoriale deve essere comunque basata su qualcosa di innovativo per essere vincente per essere comunque attrattivo nel mercato globale e quindi anche un diciamo un aspetto tradizionale del del nostro territorio può essere progettato reinventato in chiave innovativa per offrire un servizio in più all'utente finale per cui il fulcro di tutto deve essere comunque un'idea innovativa l'innovazione in occasione della presentazione di Resto al Sud a Napoli nel mese di novembre lì c'erano dei giovani che con altri incentivi con altre misure avevano dato vita ad aziende piccole aziende una in particolare calabrese addirittura che sulla scorta della ricostruzione proprio storica della zampogna lo strumento hanno cominciato a costruire strumenti musicali di grande storia di grande tradizione che oggi vendono in tutto il mondo Emanuela Siga dovendo fare la giovane imprenditrice e accedere a questa misura Resto al Sud a che cosa penseresti? Ma sicuramente punterei forse sulla comunicazione e sul marketing del territorio di quello che abbiamo cioè le bellezze che abbiamo anche sfruttarle dal punto di vista proprio di promozione quindi magari punterei sul turismo qualcosa sul turismo sul turismo e beh insomma ne avremmo anche gran bisogno di progetti innovativi che è in grado di smuovere una situazione molto stagnante che riguarda soprattutto la provincia di Avellino nonostante diciamo così una potenziale offerta affatto affatto banale affatto di scarsa di scarso appeal e tutt'altro staremo a vedere che cosa succederà con Resto al Sud c'è però un'altra scadenza Maria Grazia che è importante proprio in questi giorni perché in questi giorni scadono i contratti 275 mila persone assunte tre anni fa a tempo indeterminato con il contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act che garantiva per tre anni lo sgravio totale dei contributi a chi assumeva in questo modo adesso questi contratti a febbraio sono in scadenza sarà necessario diciamo così rinnovarli altrimenti abbiamo perso Filippo e il paniere ma siccome ci sono le elezioni di mezzo ho qualche qualche legittimo ottimismo a pensare che li confermino questi sgravi no? Sono stati molto utili anche noi li abbiamo utilizzati e speriamo che comunque chi ci governerà eh no lo devono fare prima che si vota lo devono fare questi esatto manterranno questa manterranno questa sicuramente questa misura perché è utile per le aziende soprattutto ricordiamo che c'è una media una media di 8 mila euro per ogni assunto che l'azienda non ha pagato in questi tre anni eh assolutamente non sono pochi diciamo assolutamente è stata una manovra importante che ripeto molti imprenditori hanno utilizzato e hanno consentito di togliere un bel po' di disoccupazione e quindi insomma speriamo che la rinnovino perché comunque è utile ecco noi parliamo di queste cose spesso noi sentiamo nei dibattiti in occasioni pubbliche eccetera e dice però la percezione è che stiamo ancora messi male in realtà un po' la vicenda è questa perché noi siamo usciti dalla crisi così dicono e così mi pare sia che è durata parecchi anni a partire dal 2008 fino a un anno e mezzo fa sostanzialmente siamo stati tutti dentro mani e piedi e naturalmente dentro questi lunghi durissimi anni di crisi chi aveva già poco chi era meno tutelato chi è beh ha finito per sprofondare per cui la riemersione che per una parte una fascia si sta verificando per altri è molto più difficile ecco perché per esempio rispetto a dati che sarebbero soddisfacenti che ispirerebbero l'ottimismo beh insomma c'è ancora tanta gente che è stata come dire anche un po' maciullata dalla crisi di questi anni ha più difficoltà a venire fuori ma anche questo è un problema serio perché se poi ci sono questi squilibri e sono squilibri anche feroci è difficile che le comunità possano crescere insomma Maria Grazia assolutamente sì sono d'accordo con quello che tu stai dicendo anche perché comunque ripeto ci sono varie difficoltà sul nostro territorio e offrire delle misure che vanno comunque a consentire a un'impresa a un imprenditore di fare assunzioni e quindi distribuire ricchezza sul territorio è importante anche perché come dicevo prima abbiamo veramente una fuga di cervelli dal nostro territorio e quindi dobbiamo per forza rafforzare a crescere queste misure proprio per consentire agli imprenditori di fare assunzioni e di consentire a questi giovani di rimanere al sud c'è anche da dire un altro elemento che emergeva nella sede in sede di presentazione di resto al sud che gli stessi giovani che avevano già avviato attività sostenute da altri incentivi da altre misure dicevano questa è la strada non abbiamo bisogno e non vogliamo soldi dovete metterci nelle condizioni di fare da noi facendoci partire ma niente finanziamenti a pioggia non regalate soldi perché questa cosa nel mezzogiorno ha dimostrato che non funziona vero Antonella si può essere davvero d'accordo su questo ma sicuramente è stato controproducente magari anche fare questi finanziamenti come hai detto tu a pioggia ovviamente si sono create quelle sacche di avvoltoi che ne hanno approfittate e poi hanno chiuso tutto hanno abbandonato tutto si può vedere nell'area industriale dove sta lei quanti questi detti fatiscenti costruzioni nel deserto magari loro sono i pochi che sono rimasti e che stanno lavorando con correttezza e con dall'inizio la verità lì Aquilino Villano ha fatto un miracolo perché l'area industriale del Calaggio è stata considerata e un po' lo era e lo è tuttora l'area più sgarruppata diciamo così e invece lì grazie alla tenacia alla laboriosità all'intelligenza alla capacità di chi ci lavora in queste aziende evidentemente e insomma è andato avanti ha resistito si è ampliato ovviamente lui ha fatto un discorso sul lungoraggio non ha preferito arricchirsi nell'immediatezza come hanno fatto tanti però ha creato occupazione e ha creato un progetto che va sul lungoraggio beh Aquilino ha detto insomma anche se ci avessi provato non ci sarei riuscito perché insomma io sono di queste parti insomma ho una faccia che è di qui quindi non potevo e non posso permettermi questa cosa torniamo un attimo alle molestie e al nuovo puritanesimo Emanuela il puritanesimo questo dicono le donne che hanno scritto questa lettera appello su Le Monde usa gli argomenti della protezione delle donne della loro emarginazione per meglio incatenarli ad uno status di eterne vittime di poverette dominate da demoni fallocrati come ai bei tempi della caccia alle streghe insomma il tentativo sottile che queste donne francesi molto autorevoli e importanti vedono in questa caccia alle streghe che solo in apparenza come dire insegue Weinstein ma che in realtà vuole fa un altro discorso io l'ho letta l'ho capita così e così dovresti aiutarmi beh in effetti la lettera è alquanto ambigua sotto due aspetti da un lato da la giusta percezione di quella che è il comportamento dell'uomo galante nei confronti della donna e quindi della normale diciamo attrazione anche fisica però sempre ovviamente nei limiti rispetto dell'altro sesso da un altro lato però quando dice il diritto di importunare la donna belli si deve andare con i piedi di piombo perché importunare equivale a molestare equivale a creare delle condizioni pare che abbia detto adesso non so se è stata una traduzione lasciateci importunare siamo noi che decidiamo se vogliamo essere importunate o no sì però il confine tra eccetto estrema titolistica il confine tra importunare molestare e anche essere galante nei confronti di una donna è molto labile anche perché ovviamente è sempre la percezione soggettiva che ti dice attenzione questa cosa non mi sta bene dall'altro lato Asia Argento si è scagliata nuovamente contro Catherine Deneuve e ha detto che questa lettera è di donne lobotomizzate quindi è andata sull'esasperazione totale e Segolaine Royale ha detto peccato che Catherine Deneuve abbia firmato questa lettera proprio diciamo andando contro tutte le donne che hanno subito delle molestie però ovviamente è da chiarire che nella lettera si dice lo stupro è reato non è reato essere galanti o avere la normale dialettica diciamo di corteggiamento tra uomo e donna certamente sono due estremi però per la verità c'è un po' un fondo ideologico mi pare di capire nella lettera manifesto di queste cinque importanti autorevoli donne francesi tra le quali c'è Catherine Migli critica curatrice d'arte critica d'arte nel 2001 fu protagonista di un clamoroso successo editoriale La vita sessuale di Catherine M lo scandaloso libro sul libertinaggio sessuale della protagonista e sul caso Weinstein dice c'è molta ipocrisia e tanta sproporzione e qui torniamo al sedere ai luoghi affollati se qualcuno mi tocca il sedere dice Catherine Migli o sono contenta o lo mando al diavolo e finisce lì sulla base di racconti non verificati sono state rovinate persone che non hanno avuto la possibilità di difendersi in termini generali questo può essere ma se andiamo a scorrere i casi di cui sappiamo ci sono anche piene e diffuse ammissioni di colpevolezza degli stessi degli stessi protagonisti tra i quali lo stesso Weinstein per esempio Maria Grazia quindi non dimentichiamo molta ipocrisia e tanta sproporzione molte volte sono anche le donne che sono ammiccanti nei confronti degli uomini quindi c'è anche da valutare a copione invertito quando succede anche questa è una cosa poi uno magari è ammiccante perché ce la faccia ammiccante ebbè non è questo non lo so se questo essere ammiccanti non è un lasciapassare o no Maria Grazia assolutamente io dico quando l'atteggiamento dell'uomo nei confronti della donna non è gradito da parte della donna allora la donna intelligente che deve sapere necessariamente autogestirsi e gestire l'uomo allontanandolo se è il caso e poi il resto secondo me gossip nel senso che rientra tutto nel gossip perché voglio dire se a me un uomo non piace come si comporta io lo stoppo e finisce là tutte le altre polemiche secondo me rientrano un po' nel gossip ecco poi c'è un altro aspetto ho detto che in questa posizione delle donne francesi c'era un qualcosa intravedevo forse mi sbaglio di ideologico alla base ma c'è anche un aspetto forse ideologico dall'altra parte cioè queste donne francesi hanno insomma il femminismo come odio degli uomini eh sì l'esasperazione totale perché poi alla fine e anche questo è un problema diciamo alla fine si dovrebbe cercare di trovare un punto d'incontro le esasperazioni e diciamo gli estremismi non fanno bene alle donne non fanno bene perché molte volte ci sono donne che davvero hanno subito delle molestie che davvero hanno paura a denunciare e nel calderone vanno a finire magari tutte quelle storie che fanno gossip che hanno l'attenzione mediatica mentre le vere vittime rimangono come la pensate sempre su questa cosa che dice in questo caso anche in questa lettera Katrin Millie ma che un po' pensiamo tutti nel senso che ne abbiamo discusso sull'onda dei casi di cui di cui stiamo discutendo insomma chi non vuol cedere e si parla di donne che stanno in una condizione subordinata rispetto ad un uomo che è il capo il dominus di una situazione di un di un ambiente lavorativo eccetera ecco chi non vuol cedere può farlo in certi ambienti quelli finiti nello scandalo avrebbero potuto comportarsi così capisco di più la cassiera di un supermercato che subisce il ricatto del capo in quest'ottica le denunce delle attrici sono un po' indecenti lo dice Katrin Millie io questa cosa non la condivido per la verità sentiamo Maria Grazia e poi Emanuela uno sceglie la donna e l'uomo che vuole essere con la propria dignità e i propri valori e in funzione di quelli che poi agisce e si comporta nella società io credo che è un fatto molto quello che hai nella mente e nel cuore e lo esprimi quindi ogni donna è diversa dall'altra ogni uomo è diverso dall'altro io personalmente in qualsiasi contesto mi trovassi se mi sentissi a disagio nei rapporti con un'altra persona donna uomo che sia insomma saprei credo gestire la situazione e quindi insomma indipendentemente se io fossi una cassiera oppure un'attrice evidentemente una cassiera a meno difese a disposizione forse a meno difese a disposizione di subordinazione incida tantissimo incida anche la condizione economico sociale della persona perché ovviamente una cassiera che ha due figli e un lavoro da mantenere è più portata a subire la molestia rispetto ad un'attrice che deve fare un ruolo importante o quantomeno a scansarla ma non denunciarla non denunciare certo sicuramente però sicuramente uno non è perché una cassiera deve essere diciamo no sicuramente io penso che il discorso del direttore era nell'ottica di dire che molto spesso la vera molestia la subisce chi è nella posizione di subordinazione sicuramente mentre molte volte per esempio io su Asia Argento ho una mia valutazione lei ha Asia Argento a distanza di diversi anni qualche decennio ma non è un fatto di anni dal denunciare perché ovviamente anche soggettivamente si può avere che ne sappiamo che passa nella mente delle persone dopo fatti così traumatici io nella mia vita ho subito una violenza personale e l'ho denunciata però io dico lei non ha subito tanto una violenza lei ha ceduto ad un ricatto per poi utilizzare quel ricatto diciamo sessuale e fare carriera su questo io non sono d'accordo secondo me quella non è stata perché tant'è che è stata anche fidanzata di Weinstein quindi essere molestata da chi poi ti fa lavorare poi diventi tu la compagna secondo me non lo so ci ha messo un carico per dire che questo signore insomma era una persona da questo punto di vista inaffidabile che faceva valere tutto il suo potere perché poi di bisogno si tratta ecco la subordinazione rispetto al bisogno insomma fidanzato non fidanzato ma insomma è naturalmente oltre ad essere fatti molto soggettivi se uno poi li guarda dall'esterno magari prendono la piega che ci diceva Emanuela andiamo verso la fine della puntata di stasera abbiamo parlato di giovani a proposito di resto al sud ma tra la cronaca di queste ore di questi giorni e anche della giornata di oggi perché ci sono delle proiezioni abbiamo un po' scherzato con la cronaca delle ragioni del Cacio Cavallo che però ci ha aiutato a dire che insomma anche dal male così può nascere un bene perché una parte di questi prodotti sono stati quelli recuperati sono stati donati alla mensa dei poveri ma parlando di giovani e parlando di cronaca intanto tra le notizie di oggi una notizia del primo pomeriggio un maxi sequestro di droga sulla autostrada Napoli-Bari che si conferma una direttrice molto importante per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti 26 kg di marihuana all'interno di una macchina che è stata intercettata bloccata e sequestrata la droga ma insomma ha tenuto banco ancora oggi la vicenda di cronaca di Contrada dove a sentire a leggere le cronache quasi in uno scenario da Gomorra così lo hanno anche titolato e insomma due giovani e i rispettivi amici si sono affrontati perché uno dei due giovani aveva una relazione con la sorella dell'altro una relazione che non si sa se fosse già finita se il fratello della fidanzata fosse contrario sa di fatto che il fratello della ragazza ha tirato fuori una pistola a tamburo e l'ha puntata alla tempia dell'altro ragazzo un ventenne e un diciannovenne stiamo parlando Fortuna ha voluto che pare la pistola si è inceppata il secondo colpo che è partito ha colpito per fortuna non gravemente l'altro ragazzo vediamo un attimo il servizio perché i genitori del ragazzo rimasto ferito una domanda se la pongono vediamo come siete rimasti rispetto a questa vicenda che dopo ha visto il suo figlio vittima troppo mali perché anche sulla situazione il ragazzo a me che sta dentro deve subire un altro intervento mentre l'altra parte sta a casa tranquillo e nemmeno gli arresti niente Federico poteva morire Federico poteva morire perché è stato sparato alla testa la pistola non ha sparato e poi non contanto ha ripreso la pistola e ha sparato l'ha preso al braccio fortunatamente non ha il corpo qua che mancava pochi centimetri dal torace c'era anche il fratello di Federico l'altro tuo figlio sì erano mio figlio e altri tre amici che sono stati minacciati a morte dall'individuo e altri suoi compagni che ora non si riesce ancora a rindracciarli sono stati minacciati anche dopo anche dopo sì è arrivato un messaggio sul telefonino che li minacciavano di non andare più a contrata di queste cose qua ma con la ragazza che rapporto c'era? con la ragazza secondo me sono stati nemmeno un mese si sono conosciuti non era lunga la cosa quindi non ci spieghiamo nemmeno mio figlio ha tentato di sapere dal fratello perché si stava comportando in quel modo non ha dato spiegazione c'erano anche altri ragazzi che sì era un bel gruppo di sette ragazzi e poi si sono aggiunti anche altri al momento del fatto altri che hanno inveito che hanno inveito contro sia mio figlio che Federico cioè minacciandoli sono intervenuto proprio fisicamente i ragazzi la madre com'è rimasta signora Maria Pia? la lascio immaginare dolorata per come è successo quando ha saputo che suo figlio era stato sparato hanno ucciso un po' anche me cioè se è un miracolo cioè un miracolo perché poi l'ha guardato qualcuno dall'alto perché purtroppo poteva finire in tragedia sì adesso cosa chiedete giustizia non vi sta bene solamente la denuncia a noi non sta bene questo fatto che sto ragazzo non si ha gli arresti niente non ci siamo sconcertati non ci siamo stupiti non ci riusciamo a capire sto ragazzo come fa a stare fuori cioè non è stato arrestato non è arrestato domiciliare affermo non ci spiega avete ancora paura e abbiamo paura perché giustamente un ragazzo sta fuori noi stiamo qua siamo sconcertati di questa cosa non ci spiega siamo sconcertati pure noi per la verità ma non perché abbiamo come dire il giustizialismo d'accatto vogliamo vedere la gente dentro ma anche per questioni di misure di sicurezza abbiamo visto anche messaggi successivi all'evento insomma una morte scampata per caso per fortuna per miracolo come dice la madre di Federico del giovane rimasto per fortuna ferito non gravemente sono anche questi i giovani anche nella nostra provincia può accadere può accadere questo normale che gli esempi un po' negativi che arrivano dalle serie tv dalle televisioni anche apriamo un'altra trasmissione forse secondo me questa facilità di avere un'arma e soprattutto utilizzarla con così semplicità e naturalezza viene forse da quelli che sono gli esempi dalle testimonianze pare che viene appuntata alla tempia ha sparato l'atteggiamento camorristico l'atteggiamento camorristico anche forse un esempio che lui ha avuto davanti agli occhi per dire io concludo con una pistola giustamente il padre dice ma non mi pare normale che sto ragazzo sia libero beh sulle indagini non sappiamo che cosa sia effettivamente poi in realtà successo noi stiamo sentendo ovviamente la valutazione l'importante che il ragazzo sia bene va bene abbiamo concluso il nostro tempo non vi ho chiesto come state vivendo questo scorcio iniziale di campagna elettorale elezioni politiche duello sul lavoro aboliamo il jobs act no ne aboliamo un pezzettino no bisogna abolirlo tutto la fornero via no ma non si può perché poi ci vogliono molti miliardi che non abbiamo tante promesse i vaccini abolire quelli obbligati insomma abbiamo cominciato bene come la state vivendo voi questo scorcio ma ne grazie bisogna essere ottimisti e sperare che comunque il 2018 sarà migliore qui emerge il profilo appunto dell'imprenditore che d'ufficio deve essere ottimista altrimenti farebbe un altro lavoro Emanuela io come ti ho detto stamattina sul social ogni volta che un politico dice togliamo qualcosa poi alla fine ci rimettiamo sempre noi togliamo ma insomma togliamo dove troviamo i finanziamenti per poi togliere quello che noi abbiamo fatto il conto lo ripeto alcuni giorni fa facemmo un po' il conto di quanto occorrerebbe se singole proposte o promesse che dir si voglia che cominciano a circolare non ti dicono da dove prendono i soldi ma speriamo che nel corso della campagna elettorale insomma ottimismo recuperiamo come ha chiesto il capo dello Stato un po' di realismo e di serietà io ringrazio molto Maria Grazia Villano presidente dei giovani di Confindustria ringrazio molto Emanuela Sica e ringrazio naturalmente i colleghi che hanno lavorato a questa puntata ultima puntata di questa settimana di Studio Sera Vincenzo Trombetta Alfonso Tarantini e in regia lo strepitoso esordio di Francesco Rinaldi non ha sbagliato quasi niente anzi se c'è qualcuno che ha sbagliato stasera sono stato io come spesso mi capita grazie di nuovo e soprattutto grazie a voi che avete voluto seguirci da casa arrivederci e buon fine settimana grazie a tutti Grazie a tutti.